Bentornati a tutti sul canale, in questo video andremo a fare un episodio di From Zero to Hero il quarto con il mazzo che ho usato a Bologna, Centurion Bistial e ho fatto un video a spiegazione riguardo il mazzo e il report a Bologna lo lascio magari in descrizione e niente, possiamo incominciare a giocare, fare qualche partita Grazie a tutti 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 Lately I've been high I will not know what nobody knows I will not go where nobody goes I lost my way, but I found my fighter's destiny I don't wanna look back now Cause I know that I don't need you I won't let you take me down Cause lately I've been high I've been high Lately I've been high I've been high I've been high I've been high Wherever we go We'll always know From the highest mountain To the bottom of the ocean Our song is running like a river Let the current take us there We've got the melody To set us free Singing destiny We've got the melody To set us free Singing destiny We've got the melody 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e... a tutti. e... a tutti. 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 va bene. va bene. va bene. allora comunque il mod è usato benissimo. vi faccio vedere la lista ma comunque quella che ho usato il YCS. niente ci vediamo al prossimo episodio di From Zero to Hero.